è stato all'interno di un mercato di animali vivi, animali selvatici vivi e già questo ci dice tutto. Le condizioni in cui vengono tenuti questi animali vivi in questi mercati in Cina sono abominevoli, le condizioni igieniche sono inesistenti e soprattutto come vengono conservate le carni che poi vengono vendute di questi animali tra cui ci sono anche animali un po' strani tipo serpenti e pipistrelli che vengono usati sia nella medicina tradizionale cinese sia nei ristoranti fashion delle principali città cinesi appunto sono veramente condizioni precarie. Tra l'altro è proprio andato virale negli ultimi giorni un video di una ragazza appunto che in uno di questi ristoranti famosi mangia un pipistrello che fa anche veramente schifo però...